Sarà sottoscritto il prossimo 5 aprile alle ore 11 nei locali della prefettura di Agrigento dal prefetto Maria Rita Cocciufa e dal presidente provinciale di Conf Commercio e Feder Preziosi Giuseppe Caruana il protocollo attuativo per la provincia di Agrigento del protocollo d'intesa videoallarme antirapina per le imprese ORAFE e dunque gioiellerie, argenterie ed orologerie. siglato il 4 dicembre del 2020 tra il Ministero dell'Interno e Feder Preziosi Conf Commercio Imprese per l'Italia. Il protocollo è finalizzato al miglioramento e al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità e in particolare alle rapine ai danni di questa tipologia di imprese. A tal fine prefettura e associazione di categoria si impegnano a favorire l'interscambio di informazioni su fenomeni legati alla criminalità, a promuovere iniziative e incontri in tema di prevenzione, a favorire l'utilizzo di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza antirapina e a segnalare casi anomali riguardanti tentativi di raggiri, truffe, furti con destrezza o tentativi di rapina. Con il protocollo vengono inoltre stabiliti criteri di collaborazione in tema di videoallarme e antirapina in conformità con il disciplinare tecnico approvato dal Ministero dell'Interno.